Turing! Turing, farebbe meglio ad aprire questa porta. No! No! Se non apre questa porta, saremmo costretti ad entrare con la forza. Non posso aprire! La macchina sta lavorando e non posso aprire. Sfondala. Staccate la corrente! No! Non! Per favore! Per favore, non tocca a te! Non tocca... No! 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 Dunque, sono venuto per accertarmi che la macchina non funzionasse. Funzionava. Meraviglioso. Ora mente anche a se stesso. La macchina stava elaborando. Questo è l'ispettore Sullivan di Scotland Yard. Sono cinque mesi che mandiamo finanziamenti. E lui è qui per vedere dei risultati. Voi non potrete mai capire l'importanza di quello che io ho creato qui dentro! Però, quanti messaggi nazisti è riuscito a decriptare? Nemmeno uno? Eppure dice che funziona questa macchina. E per cosa funziona? La mia pazienza è esaurita. Vorrei dire che è stato un piacere, ma non lo è stato. Alan Turing è licenziato. Per favore, scortate il signor Turing a casa sua. Per favore, scortate il signor Turing a casa sua. Per favore, scortate il signor Turing a casa sua.